Si chiama Spero 2020 e l'appuntamento è una o due giorni di lavoro, di incontri, di interventi, di esperienze. Succede a Siracusa, proprio nell'area della ex Spero, ed è probabilmente il tentativo, anche ambizioso, sicuramente coraggioso, di far emergere le forze positive, le idee positive del territorio, metterle a confronto con la politica, ma non chiudersi ancora dentro un palazzo della politica. Assolutamente questo, l'obiettivo è proprio quello di accorciare la distanza con la cittadinanza, con gli stakeholder del territorio e quindi con le imprese, con le aziende, per mettere nelle condizioni da un lato la politica di capire bisogni ed esigenze e dall'altro per costruire proprio con i cittadini uno scenario nuovo di sviluppo. Quindi l'occasione per chi ha una buona idea, una buona esperienza anche con la sua azienda, un suggerimento per fare sentire la sua cosa, farla pesare in un quadro di programma di sviluppo futuro possibile. L'idea è proprio questa, quella di consentire alle persone di costruire insieme una visione di scenario futuro sul territorio e quindi contribuire attraverso le idee della gente comune o della gente che magari ha un'azienda o una start-up o un giovane, qualsiasi tipo di persona esso sia, a contribuire appunto a delineare quello che possa essere lo scenario del territorio. Quindi un evento, una manifestazione che non vuole essere il solito evento politico assolutamente, ma che vuole essere appunto un'apertura al territorio in generale, proprio sulla costruzione di una visione a lungo termine. Non sarà soltanto un incontrarsi e parlarsi sui temi perché ci saranno anche degli annunci, non so quanto si possa già rivelare per novità su Siracusa. Sarà proprio così, in realtà saranno una fase in plenaria in cui verranno raccontati dei progetti e dei programmi che sono già in itinere, una fase in cui le persone, anche quelle più comuni, ci racconteranno delle buone prassi o delle esperienze positive che sono già presenti nel territorio e poi una fase invece di lavoro ai tavoli che si avverrà proprio a costruire, anche grazie a degli esperti in processi partecipati, le linee costruttive appunto e programmatiche su temi specifici. Dallo sport all'energia, chiaramente si discute di tutto un po' quelle che sono tutte le linee di sviluppo di una città. Si può partecipare? Si può partecipare, anzi noi invitiamo tutti a partecipare, persone di ogni genere, di ogni appartenenza politica, ripeto, perché appunto l'intervento, l'obiettivo è quello di fare insieme, insieme a prescindere da quello che sia il colore o l'appartenenza e quindi mettere nelle condizioni oggi di costruire una programmazione che poi si lega molto anche al 2020 e quindi alla programmazione europea che per noi è una grande opportunità che deve trovarci pronti.